Il Treviso e dopo sei minuti arriva il vantaggio, angolo da destra, Bianco salta più alto di tutti e batte Ferroni. Insistono i trevigiani, Bianco per Varricchio anticipato in angolo, il Treviso vuole il raddoppio ma si sbilancia un po', Bianco all'ultimo anticipa Succi. Contropiede, Reginaldo in mezzo per Gallo, Varricchio atterrato in area da Lamacchia, rigore, batte Gallo 2 a 0. Il Como non ci sta, pericoloso il tiro dal limite di Pavoni. Al 46esimo Treviso, vicino al terzo gol, Varricchio di testa attraversa, Reginaldo, miracolo di Ferroni. Nel secondo tempo Como con tre punte ma davvero poco incisivo, l'unica occasione da gol ancora per il Treviso ma Ferroni vola e salva la sua porta. Alla fine arrivano i primi tre punti per il Treviso, vittoria meritata.